Pietro Cirio, Cantina Piambello, Loazzolo, che vuol dire Langa Stigiana, anche Canelli, che vuol dire sempre Langa, a limitare con il Monferrato e soprattutto produzione di Alta Langa, questo spumante metodo classico che si sta accreditando sempre di più sui mercati, è così? Sì, penso proprio di sì, si sta accreditando sui mercati in quanto pian piano la gente, il pubblico lo sta conoscendo, lo sta riconoscendo come un prodotto di altissima qualità, quale Alta Langa, Alta Langa perché terreni in altitudine, sopra il livello del mare e quindi noi che diciamo sono dieci anni ormai, noi abbiamo cominciato con l'annata 2008, ci crediamo molto in questo prodotto e abbiamo avuto molti consensi e quindi ci crediamo molto, siamo molto contenti di queste produzioni, è un'alternativa alle vigne di Moscato che abbiamo. Sicuramente il settore degli spumanti è molto battagliato, quali sono secondo lei i valori aggiunti che l'Alt Langa ha rispetto ad altri spumanti? Beh, intanto Pino Nero, prevalentemente l'Alt Langa è prodotto con Pino Nero, quindi una produzione molto limitata rispetto alla quantità di uva perché è una spremitura soffice, con lo chardonnay, con l'ausilio dello chardonnay, poi ovviamente il disciplinare prevede un minimo di 30 mesi sui lieviti, noi facciamo 36 mesi e quindi pian piano questo spumante che lo bevi, lo assaggi dopo 5 anni dalla vendemmia acquisisce una corposità, un'importanza e poi i profumi che ci sono in altitudine, che in certe zone dove ci sono altri spumanti ma non hanno l'altitudine non possono avere.